Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi siamo qui per il terzo appuntamento con il Maggio dei Libri. Per questa settimana i temi erano hashtag anniversari e hashtag scrittori, quindi dovevamo cercare un anniversario che ricorresse quest'anno. Quindi anniversari di morti o di nascite di scrittori famosi. Io ho guardato un po' questi scrittori che c'erano, ma non me ne ispirava nessuno e cosa più importante, non ne avevo nessuno da smaltire qua nelle pile. Quindi, cosa ho fatto? Sono andata a cercare altri anniversari che ricorrono quest'anno e ce n'erano diversi molto molto interessanti. Però ne ho trovato uno che mi ha convinto. Infatti, 50 anni fa, il 2 aprile del 1968, usciva nei cinema americani 2001 di Sede dello Spazio, il film famosissimo di Kubrick, che sicuramente, se non l'avete visto, comunque ne avete sentito parlare. Io l'ho visto, sono una di quelle persone a cui non è piaciuto, purtroppo, però, nonostante questo, mi ha dato l'ispirazione per scegliere il libro da leggere. Perché, infatti, essendo un film di fantascienza, ho deciso di regarmi allo stesso filone, ma per un libro. Ma ho scelto un tipo di fantascienza molto particolare e molto piacevole da leggere, ovvero quella comica. Nello specifico ho letto La Guida Galattica per gli Autostoppisti di Douglas Adams. Io qui ho il ciclo completo, ma ho letto solo il primo libro. Vediamo un po' se si vede. Non lo vedrete mai, ma è qua sotto. Questo è il primo libro. È un libro famosissimo, non credo abbia bisogno di presentazioni, ma per chi non lo conoscesse, questo libro è la storia, le avventure di questo terrestre che viaggia attraverso lo spazio dopo che la Terra è stata distrutta per farci passare a un'autostrada spaziale. No, non scherzo, è veramente così. Io La Guida Galattica per Autostoppisti l'ho conosciuta tramite il film del 2005, con protagonista Martin Freeman. che un pochino mi ha debilitato la lettura. Perché? Perché essendo il primo libro quello più legato al film, tante cose facevo fatica a capire, a ricordarmi quale era il film, quale era il libro, poi qui doveva succedere la cosa ma qui non succede. Comunque, è bello uguale. La nostra storia parte con Arthur, un terrestre come tutti noi, che un giorno si deve piazzare davanti a una ruspa per evitare che gli tirino giù casa, per farci sopra un'autostrada, che deve per forza passare lì, non poteva passare da un'altra parte, no, deve passare lì. La vogliono fare tirando giù casa di Arthur, lui ovviamente non ci sta e si piazza davanti alle ruspe. Fino a che non arriva il suo amico Ford, che lo prende e lo porta in birreria e gli ordina sei pinte di birra da finire entro i prossimi dieci minuti, perché entro dieci minuti la Terra verrà distrutta. Perché la Terra viene distrutta per farci un'autostrada spaziale. I casi della vita, ma non posso, ci sono anche gli altri. Quindi, quando la Terra sta per essere distrutta, Ford recupera Arthur e tramite l'autostop spaziale si ritrovano su una delle navi che hanno distrutto la Terra. Ford ha salvato Arthur perché a sua volta Arthur salvò Ford quando arrivò sulla Terra da essere investito, perché lui credeva che le macchine fossero la specie dominante del pianeta, perché tutti avevano una macchina, quindi tutti giravano in macchina, quindi saranno le macchine il popolo dominante, e invece no. Ford è rimasto confinato sulla Terra per 15 anni perché non ha più trovato navi spaziali che gli potessero dare un passaggio. E quindi, per ringraziare Arthur, l'ha salvato dalla distruzione della Terra e si ritrovano appunto su questa nave, Vogon. Allora, i Vogon, tra l'altro, sono praticamente i burocrati spaziali, fanno morire da re... Secondo me, tutti i personaggi di questi libri fanno morire da re... in una maniera o nell'altra. Cioè, pure più sgradevole, fa morire da ridere. Comunque, trovandosi su questa nave spaziale, vengono poi scoperti e lanciati nel vuoto cosmico, finché tramite una botta di culo pazzesca, perché non si può non chiamare così, vengono raccolti da una nave spaziale che va a improbabilità. Ovvero, per passare attraverso l'universo senza perdere tempo nelle distanze, assume qualsiasi forma strana e esistente per poter arrivare in una zona, ma non saprai mai dove arrivi né come ci arrivi. E' piuttosto carino. Tra l'altro, loro vengono raccolti perché Arthur ha un numero di un cellulare della Terra, che corrisponde a un'equazione matematica dell'improbabilità, quindi per quello riescono a essere acchiappati dalla nave. Qui conosceremo altri personaggi indimenticabili, come Zafod, il presidente dell'universo, che è... un'idiota, perché è un'idiota, che ha rubato la navetta spaziale in probabilità, che è un prototipo, per poter cercare il pianeta leggendario Magratea. È un pianeta che si crede una favola di un popolo dimenticato da millenni. E sulla stessa navetta conosceremo anche Trillian, o Trisha, dipende un attimo il nome con cui preferisce essere chiamata, che anche lei è una terrestre, che era anche una ragazza con cui Arthur ci aveva provato ed era andato in bianco, perché Zafod l'aveva rimorchiata al posto suo. E, sempre sulla stessa navetta, conosciamo anche Marvin, il robot depresso, fantastico, che è uno dei miei personaggi preferiti, insieme anche al computer della Corredoro, che è appunto la navetta spaziale, che fa morire da ridere. Noi viaggeremo attraverso l'universo, senza mai sapere dove arriviamo, perché appunto la Corredoro va in probabilità, e vedremo tutte le avventure che affronteranno, tra cui anche Arthur, che deve ancora entrare nell'ottica, che la Terra non esiste più, e lui sta viaggiando nello spazio in maniera totalmente assurda e improbabile. È un libro che sicuramente vi consiglio. Io, per il momento ho letto solo il primo, devo andare avanti con il resto della saga, ma sto aspettando Marta, che recuperi anche lei il volumone, così lo leggiamo insieme. La cosa interessante, che io non sapevo, che c'è tutta un'introduzione all'inizio, è che la Guida Galattica nacque inizialmente come programma radiofonico, che io non lo sapevo, e ci sono state varie versioni, sia con i film che con le puntate di radio, i libri, cioè c'è davvero un universo dietro Guida Galattica per autostoppisti. Una nota, per chi volesse recuperare questo volumone, invece che i libri singoli, sappiate che è un'edizione molto floppy, perché è morbidissima, e però ha la particolarità come i mammut della Newton Compton, ovvero le pagine sono carta velina, cioè se guardate in controluce vedete le stesse parole, che ci sono dall'altra parte. Quindi, comodo da un lato, perché ce li avete tutti qua a un prezzo di 16,50 euro, che per 5 libri non è male, però sappiate che da leggere non è proprio comodissimo, soprattutto se siete un po' grossolani a girare le pagine. Ecco, se invece siete tranquilli in casa, non dovete portarvelo via, girate con calma, secondo me è un ottimo investimento. Questo era tutto, spero di avervi tenuto compagnia. Vi lascio qua sotto, come al solito, il calendario con tutti gli appuntamenti della settimana e i collegamenti ai canali e ai blog che partecipano al progetto. Come vedete, io ho un po' arrangiato la mia, anche questa volta, l'argomento della settimana, però mi sono divertita molto e mi è piaciuta anche molto come lettura. Io vi aspetto la prossima settimana con il nuovo appuntamento e il nuovo argomento per il Maggio dei Libri. Ciao!